Buongiorno amici di Icaro TV, benvenuti al secondo appuntamento con la nostra informazione di oggi venerdì 29 novembre con Icaro Tg Pomeriggio. Partiamo dalla cronaca. I carabinieri hanno arrestato tre giovani con l'accusa di due rapine violente ai danni di malcapitati addescati nelle chat per incontri. Nonostante agissero mascherati, gli inquirenti sono riusciti a risalire alla loro identità. Sentiamo. Il modus operandi del gruppo, tre giovani italiani tra i 21 e i 24 anni, prevedeva di attirare le vittime, sempre uomini, attraverso una chat di incontri. Si organizzava un appuntamento in luoghi appartati in campagna con uno di loro che faceva da esca e si fingeva interessato ad approfondire la conoscenza del soggetto contattato. La vittima, appena scesa dall'auto per l'incontro, si ritrovava circondata da individui col volto travisato da maschere stile Halloween e veniva picchiata, immobilizzata e legata con fascette di plastica. I rapinatori sottraevano soldi e cellulari alla vittima e con la sua stessa auto la portavano a uno sportello Bancomat nel Riminese dove, dietro ulteriori minacce di violenza, la costringevano a prelevare contanti e a effettuare bonifici sulla loro carta ricaricabile. Poi si dileguavano, dopo aver minacciato di morte la vittima, se avesse parlato e abbandonandola in stato di shock. Le due rapine che hanno portato agli arresti sono avvenute a Cesenatico e Longiano. I carabinieri di Cesenatico sono risaliti a un'auto ricorrente nei due episodi e da lì hanno individuato poi i tre soggetti arrestati in collaborazione con i carabinieri di Rimini. Il jeep di Forlì ha convalidato gli arresti disponendo per loro in attesa del processo i domiciliari. Andiamo sul nostro sito newsremini.it per tutti gli aggiornamenti, per parlare, per restare alla cronaca perché c'è stata questa notizia di ustioni dopo un trattamento al viso. Chiesto risarcimento danni, medico estetico a processo per lesioni. Quel medico, dice una 45enne che ha sporto denuncia, mi ha rovinata procurandomi ustioni al viso dopo un trattamento di foto ringiovanimento con luce pulsata. La vicenda risale al 10 febbraio 2022, però la donna professionista che opera nell'ambito estetico si era recata dal medico nella speranza di ringiovanire la propria pelle, ma una volta terminata la seduta però inizia ad avvertire uno strano bruciore sulle guance che aumenta col passare delle ore. Per un mese la 45enne non ha potuto più lavorare, era stata costretta a recarsi nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Buffalini di Cesena. Prognosi di 40 giorni, naturalmente il medico è di diverso avviso perché a questa vicenda è legato anche una richiesta di risarcimento di 75 mila euro. Il medico, secondo il professionista, appunto difeso dall'avvocato Cristian Guidi, non furono commessi errori o negligenza e tutta la procedura, anche quella post-trattamento sarebbe stata eseguita in maniera corretta. Detta del professionista sarebbe stata la donna a non aver rispettato le sue indicazioni una volta terminato il trattamento. Proseguiamo sul nostro sito perché tiene banco anche la vicenda del liceo Serpieri. Sciopero al Serpieri, FLCCGL sta con gli studenti a simmetria del potere. Lo abbiamo visto, insomma 300 studenti che hanno scioperato e continuiamo tuttora a seguire la vicenda. Ieri la CGL di Rimini commenta lo sciopero degli studenti del liceo Serpieri condividendo le istanze rilanciate ricordando di essersi già attivata tramite il proprio sindacato di settore per affrontare con la dirigente scolastica le criticità al centro della contestazione di oggi. Ha parlato la riminese Simonetta Scarelli, i temi alla base della proclamazione del riuscito sciopero riguardanti anche la sicurezza dell'istituto sono già stati oggetto di confronto da parte di FLCCGL Rimini con la dirigente scolastica. L'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto da parte delle studentesse e degli studenti pensiamo che in alcun modo possa ledere l'immagine dell'istituto stesso. Va ribadito che la scuola è il luogo dell'educazione per eccellenza, non è tollerabile che questi possa agire in una dimensione e dividente a simmetria del potere. Ci riferiamo e si riferiscono le parole ovviamente al sedicenne trattenuto in presidenza dopo lo sciopero. Nell'esprime la più totale solidarietà nei confronti degli studenti e delle studentesse del liceo Serpieri si schiera al loro fianco FLCCGL facendosi garante dell'espressione democratica nella comunità educante. Andiamo al secondo servizio di oggi perché parliamo della metromare, si sblocca la situazione per la seconda tratta, la ditta seconda classificata ha accettato l'incarico, a causa però di ritardi accumulati restano incognite sul rispetto delle tempistiche. Sentiamo. Dopo la risoluzione del contratto con Italiana Costruzioni arriva una svolta positiva per la seconda tratta del metromare, quella chiamata a collegare la stazione di Rimini con la Fiera. Il consorzio Integra di Bologna, seconda classificata nella graduatoria dell'appalto integrato, ha comunicato formalmente e nei termini assegnati la disponibilità da accettare l'impegno di realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva e quindi l'esecuzione dell'opera. PMR, ente appaltatore, in via d'urgenza già dalla prossima settimana, concluse le verifiche formali, affiderà l'appalto che inizierà con le attività di progettazione definitiva e quindi esecutiva che richiederà 144 giorni. La realizzazione dell'infrastruttura fino alla Fiera, commenta l'amministratore unico di PMR Stefano Giannini, è ritenuta fondamentale per cui, nonostante le difficoltà, è nostro dovere andare avanti. La tratta era stata finanziata dal PNRR con circa 60 milioni di euro e doveva essere ultimata entro il giugno 2026, proprio per non perdere i fondi. Una data impossibile da rispettare, visto che il cantiere, se non ci fossero stati problemi con la prima giudicataria, si sarebbe dovuto aprire già ad agosto. L'auspicio è che possa arrivare ora una proroga dall'Europa, visto che in Italia sono molti i progetti che rischiano di sforare i termini. C'è però anche un piano B. Si tratta dei fondi statali per circa 55 milioni che il prolungamento del metromare aveva intercettato nel 2020, prima di far convergere l'intervento verso il PNRR. Un finanziamento che, secondo Giannini, si potrebbe comunque riattivare. Torniamo sul nostro sito perché la notizia di apertura riguarda il teatro Novelli. Il Novelli non si tocca, il sindaco sarà il secondo teatro della città. Arriva un po' di chiarezza sul futuro del teatro Novelli di Rimini, chiuso ormai da alcuni anni e non più agibile. Nessun abbattimento per realizzare nuovi parcheggi, neppure residenziali. Il Novelli resterà un teatro, lo ha detto il sindaco Yamilsa de Golvada, prendendo la parola in consiglio comunale nella discussione sull'ordine del giorno. Non possiamo, dice il sindaco, mettere tutto al galli e non sarebbe neppure corretto e c'è un tema anche di costi gestionali molto elevati. Ovviamente, ha precisato il primo cittadino, il recupero del Novelli è un progetto che andrà oltre i tempi dell'attuale mandato amministrativo. Anche per una questione di fondi da intercettare per realizzare un intervento che sarà economicamente corposo, ha parlato anche l'assessore ai lavori pubblici Mattia Moroli. Il ripristino della struttura com'era e dov'era costerebbe circa 15 milioni di euro. L'alternativa ancora tutta da valutare sarebbe invece la demolizione e la ricostruzione. a Rimini ha detto che serve tanto il Novelli quanto la storia. Proseguiamo sul nostro sito a proposito di lavori in città. Qui siamo a Riccione perché ci sarà un nuovo parcheggio per l'ospedale Ceccarini da 84 posti auto, accordo tra Comune e OSL Romagna. Nella seduta del 28 novembre il Consiglio Comunale ha approvato l'accordo tra Comune di Riccione e OSL Romagna per la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio dell'ospedale Ceccarini su un'area di 2850 metri quadrati, 84 posti, 9 spazi riservati a persone con disabilità, due posteggi rosa per donne in gravidanza o con bambini piccoli, due stalli dotati di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Investimento complessivo di 450 mila euro con una entrata che si prevede annuale di 123 mila euro sul nostro sito. Trovate tutti i dettagli. Restiamo ancora a Riccione perché oltre a questo all'unanimità c'è anche il via libera del Consiglio Comunale, la nuova caserma dei Carabinieri di Riccione. Il percorso per la realizzazione della nuova caserma era partito nel 2019 quando il Consiglio Comunale espresse per la prima volta un atto di indirizzo. Da allora diversi passaggi amministrativi, evidenzia l'amministrazione, la nuova caserma dei Carabinieri nell'area di Viale Corte Maggiore rappresenterà un punto di riferimento essenziale per il mantenimento dell'ordine pubblico e della legalità del territorio con strutture adeguate all'altezza di esigenze operative. Comprenderà anche due edifici distinti, uno per il comando compagnia e l'altro riservato agli alloggi. Torniamo a parlare di turismo perché noi eravamo ieri a Bologna per in Emilia Romagna c'è una vacanza per me. Questo è il titolo del progetto dedicato al turismo accessibile a persone con disabilità che ha coinvolto numerosi comuni della Riviera Romagnola il cui bilancio è stato tracciato in una conferenza stampa che abbiamo seguito nella sede della Regione alla presenza tra gli altri di un testimonial d'eccezione, ovvero Paolo Cevoli. Sentiamo. Con l'inaugurazione del sito web collegato al portale Emilia Romagna Turismo si conclude il progetto regionale sperimentale di turismo accessibile in Emilia Romagna c'è una vacanza per me che ha visto il coinvolgimento di 14 comuni della Riviera Romagnola dai lì di Dico Macchio a Cattolica e finanziato per 1,6 milioni di euro dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. In nove di questi comuni, partner del progetto, sono state realizzate numerose iniziative tra le quali accessi attrezzati, adattamento di luoghi di interesse paesaggistico e allestimento di strutture ludiche e sportive inclusive, oltre a una massiccia campagna web che ha avuto come testimonial l'influencer Giulia Lamarca e un romagnolo doc come Paolo Cevoli, testimonial della Regione Emilia Romagna. Il lancio del sito web ufficiale ha l'obiettivo di offrire le informazioni fondamentali al turista con disabilità o altre necessità, fornite da diverse realtà della Riviera come strutture ricettive, campeggi e villaggi turistici, ma anche musei, ristoranti e stabilimenti balneari. Le azioni sono tantissime, da una strutturazione del progetto, da ulteriore formazione, da ulteriori attività con i comuni che in questo caso non si fermeranno solo alla Riviera Romagnola ma alla Romagna, ma il progetto diventerà un progetto regionale, quindi da Piacenza a Cattolica tutti gli operatori saranno coinvolti in questo importante sviluppo. Devo dire che noi partiamo avvantaggiati perché abbiamo una natura che ci porta a essere ospitali così, perché io poiché sono figlio di albergatori, piccolo albergatore, devo dire ce l'ho proprio nel sangue, ma tutta la nostra terra è calda, è accogliente, è affettuosa e si tratta anche naturalmente di adeguare le strutture, così come questo progetto sta facendo, a modernare e rendere accessibile e accogliente veramente per tutti. Te ne sei occupato, se mi passi la battuta, anche da assessore o solo da testimonial? No, io vi faccio l'assessore per finta, l'assessore lo devono fare altri, io faccio il patac, però voglio fare il patac bene, non è che è così facile, è importante. Andiamo a parlare di sport e di basket in carrozzina perché a breve arriva l'esordio a Pistoia per Riviera Basket, la squadra di basket in carrozzina di Rimini che ha presentato la sua nuova stagione alla ristorante Lo Zodiaco, vediamo. Riviera Basket Rimini anche quest'anno con main sponsor NTS Informatica è pronto a l'esordio nel campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina 2024-2025, sabato i ragazzi del presidente Martinini saranno di scena Pistoia, l'esordio casalingo invece è in calendario domenica 8 dicembre alle 15 alla palestra Karim, avversario la Icaro Brescia. Le ambizioni sono sempre quelle di far molto bene perché la squadra è sempre stata costruita per vincere e bisogna che le vinciamo tutte per fare un bel lavoro e le ambizioni sono da fare i play-off, le squadre da battere dovrebbe essere sulla carta Parma e Milano, ci saremo noi che le faremo in passiere. Il roster è integrato quest'anno con i nostri due acquisti che abbiamo già parlato, Kevin Giustino e Lorenzo Perlegrini, poi stiamo crescendo come squadra perché ci aiutano a poter crescere perché essendo più bravi ma non più bravi a livello solo cestistico ma anche a livello umano per stare in un gruppo non è semplice, soprattutto la cosa più bella che il nostro super allenatore Angelo Loperfido l'ho visto bello carico quest'anno dunque speriamo che facciamo tanto 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 la differenza sia lui che come giocatore ma come allenatore che ci possa dare con lo slancio in più per portare a casa un ottimo risultato quest'anno. È una squadra che noi siamo tanto felici che porti in giro il nome della nostra città, come amministrazione sposiamo in pieno i valori che questo progetto porta con sé, sono valori che sono veramente all'essenza e alla base della disciplina sportiva e dello sport in generale, c'è inclusione, c'è aggregazione, c'è accessibilità, c'è rispetto, sul campo siamo tutti uguali e c'è anche competizione, come dicevamo un calendario che inizia a Pistoia, la prima in casa sarà l'8 dicembre con Brescia, quindi l'appuntamento è l'8 dicembre alla palestra Karim per riempire d'amore questa squadra, per riempire d'amore questo progetto per la nostra città e per Riviera Basket. Andiamo a chiudere questa nostra edizione del Tg come di consueto con il meteo, dopo un mattino con cielo molto nuvoloso, dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità con schiarite in pianura e nube residui sui dilievi, siamo sulle previsioni regionali, per quanto riguarda le temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra 7 e 10 gradi, nei principali centri urbani di qualche grado inferiori sulle aree di pianura, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 11 e 14 gradi, 20 deboli variabili in pianura, tendenti a disporsi dal nord-est in questa tarda mattinata e a rinforzare sulla costa e sui rilievi orientali, mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso nel corso della giornata fino a molto mosso, in particolare lungo il riminese. Andiamo nel dettaglio delle previsioni per la provincia di Rimini, pomeriggio sostanzialmente sereno seppur velato da qualche nuvola, così come la sera, temperatura massima in costa 14 gradi, sui rilievi 8 gradi. Abbiamo finito anche per questa seconda edizione del nostro telegiornale, vi rimando l'appuntamento su newsrimini.it per tutti gli aggiornamenti sul nostro sito, Icaro Play per tutti i programmi in streaming e le repliche di tutte le nostre produzioni. Vi rimando a Icaro Tg Sera come sempre alle 19.15 e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie.